Senatrice Binetti, dalle relazioni di oggi sugli affidi dei minori, quali criticità sono uscite e come potrò risolverle? Diciamo che le criticità che sono uscite sono veramente abbondanti e riguardano sia le modalità stesse di allontanamento del minore dalla famiglia, sia le cause stesse che portano ad allontanare un minore, spesso ci sono delle cause che affondano le loro radici nella povertà della famiglia, nell'indigenza, altre volte sono cause che affondano le loro radici nella difficoltà relazionale tra le coppie. In ogni caso, nell'uno e nell'altro, il minore è sempre vittima di una situazione e l'allontanamento invece di essere una soluzione positiva corre il rischio di convertirsi in un ulteriore fattore di rischio che compromette la sua serenità e la sua pace. Cosa fare in un prossimo futuro? Intanto rivedere sostanzialmente cause e modalità di allontanamento. Secondo, rivedere come supportare le famiglie e garantire la qualità del rapporto del bambino con la sua famiglia, chiamiamola così naturale, perché possa essere reinserita in famiglia quanto prima e nel miglior modo possibile.